Senti, sai qual è il tuo problema? No. È che non ti diverti. In che senso? Vedi, pensate solamente al risultato. Pensate solo a portare a casa il risultato. Avete perso il senso del gioco. Il gioco di che? Il bel gioco, il bel punto. Dovete mettere un bel colpo piatto. Bello, armonioso. Il rumore di un colpo piatto, sai come fa? Come fa? Poff. Poff. Fate dei colpi brutti, senza un senso, senza un minimo di armonia. Niente, però. Armonia, il rumore. Armonia. La musica. Poff, 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 poff. Hai capito? Non puoi capire. Vai. L'avo capito? No, non hai capito. Pum, pum. No, non hai capito. Vai, meglio.